L'Università di Fabriano è un'università un po' diversa dall'università normale, come può essere per esempio l'Università di Ancona. È un'università molto piccola e per adesso mi sto trovando bene. Ci sono ottime carte da giocare in questa università, in quanto ci sono pochi iscritti, il rapporto con i professori è molto ristretto e quindi grandi possibilità. Sono iscritto a Ingegneria della Produzione Industriale, indirizzo cartario e ho scelto questa facoltà in quanto era l'unica in Italia specializzata in questo settore e quindi la vedo come una buona opportunità per introdursi nel mondo del lavoro. Penso che Fabriano, appunto, come detto prima, sia importante perché il rapporto tra studente e professore è un rapporto un po' particolare. È quasi come avere un tutor, quindi si può apprendere le materie in modo molto più efficace che in grandi università. Sicuramente l'università in una città è una risorsa importantissima, in quanto può essere vista come un polo di eccellenza, un polo di formazione, di cultura e quindi anche di sviluppo di altri settori all'infuori dell'industria che spesso è il settore che è stato da sempre predominante nella città. Avere un'università a Fabriano secondo me significa crearsi un indirizzo, uno stile e un'identità particolare. Non si può sempre chiudersi dentro a certi schemi che sono stati da sempre propri e la città di Fabriano ha bisogno uscire da questa cosa. Quindi io credo non servono manifestazioni o associazioni particolari senza polemiche, ma serve un indirizzo particolare e l'università credo sia la strada giusta da seguire, un buon investimento. Le autorità locali e anche le industrie che ci sono in questa città dovrebbero promuovere l'università e quindi aiutarla ad andare avanti. Quindi se questo non sarà possibile penso che comunque questo corso debba andare avanti e io personalmente sarei disposto anche al trasferimento in un'altra città. Da laureata per me logicamente sarebbe un peccato, sarebbe aver fatto l'università in un posto dove adesso non c'è più, quindi sgradevole come cosa. Il Fabriano alla fine perderebbe tanto perché comunque è una grandissima risorsa l'università e personalmente poi condivido le idee degli altri, quindi spero che non succeda. Penso che l'università sia un motivo di prestigio anche per la città stessa e poi anche economicamente può dare sicuramente dei vantaggi perché vengono formati degli ingegneri che poi potranno andare a lavorare anche nell'azienda equilimetrofe, quindi penso che sia una buona risorsa. L'università diciamo che per ogni città è un vero lucchiello, quindi Fabriano che purtroppo ora sta vivendo un momento difficile ha bisogno di uscire da questa crisi e l'università è un luogo molto utile per uscire da questa crisi. Fabriano è un polo che si trova al centro di università storiche come Macerata, Urbino, Perugia, Camerino e quindi l'apertura anche di strade alternative associandosi a altri corsi laurea credo che sia importante. Per questo motivo credo che la chiusura di questo polo universitario sia una grande perdita per la città e una grande sconfitta dell'amministrazione che porta avanti questa città, in quanto forse non ci si è creduto fino in fondo su questa realtà che sta piano piano forse scemando. Io penso che sia un errore soprattutto a livello economico perché l'università è nata come un consorzio da parte delle aziende per cui se in passato avevano bisogno di determinate figure, anche se adesso c'è un momento di crisi, poi queste figure serviranno nuovamente e quindi è giusto che comunque cerchino in qualche modo di continuare a dare le risorse per portare avanti questo polo didattico. Poi in futuro potranno sfruttare gli ingegneri che usciranno da qui. Visto che si parla sempre di investimenti, credo che chiudere l'università Fabriano sia un cattivo investimento in quanto significa rinunciare, come ho detto in precedenza, a un percorso, a un'identità che abbiamo cercato di creare in questi anni e io spero che questa cosa non avvenga in quanto può essere una risorsa da sfruttare e sicuramente sfruttare meglio dalle strutture, le infrastrutture, creare formazione specifica verso un futuro che sarà quello lavorativo. Se Fabriano perde anche l'università, oltre alla crisi economica, oltre alla scomparsa delle società sportive direi che è una grave perdita per tutta la cittadinanza e anche per noi studenti che frequentiamo questa università dispiace perderla.